Siamo in tempi strettissimi Signore e signori, un applauso a questo ensemble meraviglioso, tutto improvvisato Allora, come si chiama il tecnicofonico, vai, tecnicofonia, ce l'ha un nome, si chiama Thomas Thomas, allora fai quello che devi, riverbero e presenza, Thomas non cimollare, Giulio ci sei? Thomas, ma questa chitarra funziona? Thomas, ma che stai a dire? Qua non siamo in vacanza, stiamo per spazio Thomas Vai, 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 alza, alza Un urlo! Che forte! Alza questa chitarra, Thomas! Su le mani! Amarsi un po' È come bene È facile È respirare Basta guardarsi un po' Avvicinarsi un po' E non lasciarsi mai Si, 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 si Baglioo l'arma a questo Alla batteria qualcuno, a Massimo dai, c'è un batterista in sala, non ce la fanno suonare, non ce la fanno suonare, si può eludere, si può eludere, la solitudine. Alla batteria, si può eludere, 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 si può Un urlato! Un urlato! Un ansio un po… Un ansio un po… E un po' più rire… Parita stai… A tu morire Per diventare noi, veramente noi Amarsi un po' come me Amarsi un po' come me Amarsi un po' come me Signore e signori, Angelica, Marisa, Davi Ma ce l'hai nel pezzo figo? Lo so, lo so ragazzi, qua purtroppo siamo con i tempi stretti Io vi ringrazio ragazzi, davvero di cuore Ma qua a Milano ci fa chiudere, non sto scherzando Manca ancora un altro artista Scusate ma Venite sopra, tutti insieme, forza Venite tutti, siamo tutti qua Chi è quest'altro artista? Dai altro artista!